Benvenuti su Medicina e Informazione Web TV. Il tumore ovarico è una neoplasia complessa con sintomi aspecifici come dolore o gonfiore addominale, spesso trascurati nel tempo, con la conseguenza di arrivare ad una diagnosi tardiva quando il tumore è già in fase avanzata. È quindi necessario da un lato informare e sensibilizzare maggiormente le donne sul tumore ovarico per arrivare ad una diagnosi più precoce e dall'altro far sì che ogni paziente possa contare su percorsi dedicati e sul migliore e più equo accesso alle terapie più innovative. Infatti oggi, grazie a test genetici per biomarcatori predittivi e a terapie avanzate come i parpi inibitori, è possibile migliorare sia la sopravvivenza che la qualità della vita. Con questi obiettivi è nato l'Ovarian Cancer Commitment, un'iniziativa promossa da AstraZeneca con la Società Europea di Oncologia Ginecologica e la Rete Europea dei Gruppi di Advocacy sul Cancro Ginecologico. Si tratta ora di abbattere le disparità di accesso ai test e alle terapie nei vari centri distribuiti sul territorio italiano, garantendo quindi la profilazione con i test genomici HRD che affiancano i già noti test sulle mutazioni genetiche BRCA, terapie personalizzate basate sui risultati dei test e una chirurgia altamente specializzata che può essere eseguita solo nei centri di riferimento. Ne parliamo con i nostri ospiti che abbiamo incontrato a Roma in occasione della presentazione della campagna Ai Due Minuti, nata proprio per informare le donne sul tumore ovarico. Ed iniziamo con un identikit delle pazienti con tumore ovarico e dello scenario terapeutico. In Italia ci sono circa 5.000 nuove pazienti che si ammalano di carcinoma dell'ovaio. Purtroppo si tratta di pazienti che si ammalano spesso in fase avanzata. Circa l'80% dei casi è diagnosticato quando il tumore si è esteso al peritoneo, all'addome e pertanto richiede come primo approccio un intervento chirurgico molto complesso. E oggi non basta solo la chirurgia, è necessario anche inquadrare dal punto di vista molecolare queste pazienti. Fortunatamente ci sono stati significativi passi avanti sia dal punto di vista farmacologico ma anche nella identificazione di biomarcatori che permettono di distinguere meglio classi differenti dei pazienti. Per quanto riguarda le terapie mediche, oggi abbiamo a disposizione una nuova classe di farmaci che si chiamano parpe inibitori che agiscono proprio influenzando la capacità del DNA di riparare le mutazioni e quindi portano a morte le cellule tumorali. Questi farmaci sono attivi nel tumore dell'ovaio ma oggi abbiamo a disposizione degli strumenti, dei test molecolari che ci permettono di identificare tra le pazienti quelle che beneficiano di più. Quindi riusciamo ad adattare la migliore terapia alle caratteristiche molecolari delle pazienti. Per tutte queste ragioni sviluppare il modello delle reti oncologiche all'interno della regione è molto importante perché si creano dei network di centri altamente qualificati e è possibile in tal modo indirizzare le pazienti ai centri che hanno le migliori possibilità per erogare una cura di qualità. La chirurgia resta un pilastro della strategia terapeutica ma come dicevamo si tratta di una chirurgia complessa che può riguardare numerosi organi addominali in caso di malattia avanzata ed è quindi necessario che si svolga in centri dedicati con grande esperienza ed alti volumi di interventi annuali. Il tumore dell'ovaio è una malattia molto complessa che richiede sempre un approccio multidisciplinare. La paziente è difficile, il trattamento è difficile ma oggi abbiamo ottenuto dei risultati eccezionali. Grazie a cosa? Grazie sicuramente a tutti i progressi nella terapia medica ma anche e soprattutto grazie alle centralizzazioni delle cure che devono avvenire in centri di riferimento adeguati dove abbiamo degli ottimi clinici medici, degli ottimi oncologi ma anche degli ottimi chirurghi perché il trattamento del tumore ovarico è una combinazione perfetta tra la chirurgia e poi la terapia medica cioè la chemioterapia e la terapia target. Centro di riferimento significa avere tutte queste figure a disposizione e discussione dei calzi clinici settimanali per prendere le migliori decisioni per i pazienti. Questo si fa sulla base anche del numero dei pazienti trattati. Non è pensabile che una patologia così complessa sia trattata in centri dove esistono pochi casi per anno perché non possiamo fornire le adeguate expertise che il paziente merita. L'informazione alle donne e alle pazienti è sicuramente un elemento essenziale ma i bisogni delle pazienti sono numerosi ed è importante che vengano tenuti in grande considerazione in tutto il percorso di diagnosi e di terapia. Quando si parla di bisogni delle pazienti si parla sostanzialmente di tre problemi. Il primo riguarda la scelta dell'ospedale e nella scelta dell'ospedale le pazienti non sono molto guidate tant'è che soltanto il 27 per cento secondo una ricerca che abbiamo fatto lo scorso anno sceglie il centro di riferimento con la competenza specifica per i tumori ginecologici in particolare per il tumore ovarico e quindi il discorso di poter orientare le pazienti verso i centri ospedalieri specializzati è uno dei primi problemi da risolvere. Il secondo riguarda l'accesso alla medicina di precisione e alle terapie personalizzate per accettare le quali però è necessario che le pazienti vengono sottoposte ai test genetici e test genomici. Ora noi sappiamo che l'87 per cento delle pazienti oggi viene sottoposta al test BRCA e quindi tutte le pazienti che hanno tumore ovarico BRCA mutate possono accedere alle terapie innovative con parti inibitori. La stessa cosa non succede per le pazienti con un'alterazione HRD e il problema è legato al fatto che questo test genomico non fa parte dei livelli essenziali di assistenza e quindi questo problema deve essere risolto a livello di organizzazione politico-sanitaria perché è necessario che questo test venga al pari del test BRCA incluso nei LEA. Il terzo problema riguarda l'informazione sulla malattia e il poter assicurare alla paziente un percorso di cura di qualità che significa curare non soltanto la malattia ma curare anche i bisogni tipo psicologico, nutrizionale o sessuologico della paziente e qui c'è un'area di bisogno molto ampia che deve essere riempita se possibile con la competenza che probabilmente soli i centri specialistici riescono a offrire. L'impegno della Ovarian Cancer Commitment e la campagna Ai Due Minuti proseguiranno con numerose attività anche sui social per migliorare sempre più la consapevolezza sulla malattia e l'accesso ai percorsi di cura nei centri di riferimento. Siamo molto orgogliosi come AstraZeneca Italia di essere a Roma per lanciare la versione italiana dell'Ovarian Cancer Commitment che è un impegno globale che AstraZeneca si è presa insieme alla Società Europea di Ginecologia Oncologica per aumentare la sensibilizzazione intorno al tumore ovarico. La declinazione di questo Ovarian Cancer Commitment in Italia si traduce nel lancio proprio oggi di questa campagna Ai Due Minuti perché ogni due minuti una donna con un'età superiore ai 49 anni riceve una diagnosi di tumore ovarico ed è per questo che come AstraZeneca Italia abbiamo lanciato questa campagna davvero innovativa che ha diverse declinazioni a partire dalla realizzazione di un sito internet, dalla realizzazione di una app dove è presente un assistente virtuale che si chiama Olivia quindi è una donna che cerca di spiegare che cos'è il tumore ovarico ma anche di far sì che l'eventuale diagnosi di tumore ovarico trovi delle risposte nella paziente che magari vuole avere dei consigli per arrivare a un centro altamente specializzato, a consigli anche di nutrizione su aspetti sessuali e quant'altro. Ringraziamo i nostri ospiti per aver ricordato l'importanza di conoscere e riconoscere tempestivamente il tumore ovarico soprattutto oggi che sono disponibili nuove opzioni terapeutiche. Ringrazio anche voi per essere rimasti in nostra compagnia e arrivederci qui su Medicina e Informazione Web TV.